In collaborazione con In questa puntata L'Assemblea di Conf Cooperative Fedagri Pesca Emilia Romagna Che ha eletto il nuovo presidente Si è confrontata sulla transizione dell'agroalimentare italiano Poi da Foggia i dati del mercato delle macchine per il Garden E le novità del Salone Eima Green Proteggere dal dissesto idrogeologico la montagna Significa anche tutelare la pianura Questo in sostanza è il significato di un convegno Di un'iniziativa svolta a Pavullo nel Fregnano In territorio modenese Dal Consorcio di Bonifica della Burana Assieme alla Regione Si è parlato di questo Si è parlato di risorse che vengono messe in campo Appunto dagli enti della Bonifica Ma anche dalla Regione Emilia Romagna Attraverso il piano di sviluppo rurale E poi parleremo di zootecnia Con la razza piemontese A Cascina Raveto A Orbassano Alle porte di Torino Per la giornata nazionale della razza piemontese Che festeggia il marchio Fassone IGP E anche una ripresa dei capi in allevamento Ci racconta tutto Giovanni De Luca Allevatori Top E' Raffaele Drei Il nuovo presidente di Conf Cooperative Fedagri Pesca Emilia Romagna Organizzazione che riunisce 385 cooperative agroalimentari E della pesca Con oltre 51.000 soci E 18.400 addetti E un fatturato che supera i 9 miliardi e mezzo di euro Che negli ultimi 4 anni Nonostante la pandemia Gli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare alcuni settori Come l'ortofrutta Ha aumentato il fatturato del 3% E ha registrato un calo degli occupati solo del 3% Ma le sfide non sono finite Adesso il mondo dell'agroalimentare e della pesca Deve confrontarsi con gli scenari internazionali Non a caso filo conduttore dell'Assemblea E' stata la transizione dell'agroalimentare italiana Che ha approfondito le problematiche dovute al caro energia L'aumento dei costi delle materie prime Dei fertilizzanti Della logistica Che inevitabilmente pesano e peseranno Sul mondo della cooperazione agroalimentare Professor Frascarelli Quali sono gli scenari che si aprono attualmente Le ripercussioni sul mondo dell'agroalimentare? Noi venivamo da un periodo 2015-2021 In cui i prezzi dei prodotti agricoli a livello mondiale erano bassi A un certo punto Già però nel 2021 c'è stato un aumento di prezzi In conseguenza di uno squilibrio domanda offerta A questo aumento di prezzi A questo fuoco sui mercati che già c'era E' uscito il conflitto Che ha accentuato la questione Come se una danica di benzina venisse messa su un fuocherello Che già c'era E si è verificata una tempesta perfetta Un incremento dei prezzi dei cereali Delle oleaginose mai visto Basta pensare che a Bologna In un giorno il prezzo del mais Si è aumentato di 75 euro a tonnellata Non si era mai verificato Ecco, questo è dovuto al fatto Che Russia e Ucraina Sono paesi che contribuiscono per circa il 28% Alle esportazioni mondiali Non alla produzione come si dice spesso nei media Ma alle esportazioni E quindi di conseguenza Essendo grandi player mondiali Che contribuiscono all'equilibrio domanda offerta Venendo meno l'offerta Russia e Ucraina C'è stata una fiammata di prezzi Cosa succederà nei prossimi mesi? Beh sicuramente se la produzione del 2022 Sarà buona a livello mondiale E se il conflitto dovesse rallentare o terminare Chiaramente si vandrà gradualmente Verso una situazione di normalità Però questa situazione ci ha insegnato un dato importante Che la produzione e l'approvvigionamento Sono valori che dobbiamo continuare a perseguire Sia in Europa che nel mondo E quindi anche l'Europa, anche l'Italia Deve impegnarsi di più Per produrre più commodi a livello mondiale Raffaele Drei Neopresidente Cooperative Fedagri Pesca Emilia Romagna Quattro anni di mandato davanti Un periodo sicuramente non facile Anche se l'associazione è comunque cresciuta Anche nei quattro anni precedenti Nonostante tutto Sì, è un periodo dove si prefigurano Degli scenari in forte cambiamento Come lo sono stati negli ultimi mesi E purtroppo anche con tanta incertezza Quindi è difficile sicuramente Da programmare Perché è difficile sapere Quali saranno le evoluzioni Che la nostra Europa In maniera particolare vivrà Ma purtroppo Le situazioni andranno ben oltre Le tematiche di carattere europeo Quindi dobbiamo reinventarci Con tante opportunità Sicuramente le risorse Che in questo momento Stanno arrivando in tutto il settore economico Dovremmo imparare a gestirle al meglio E soprattutto a gestirli in rete La cooperazione in questo Ha sempre fatto scuole Quindi credo che siamo attrezzati Per investire Per ristrutturare le nostre filiere Facendo veramente rete tra imprese Per quanto riguarda per esempio PNR Per quanto riguarda l'economia circolare Per quanto riguarda l'energia Riutilizzo dei sottoprodotti agricoli Sono tutte tematiche In cui io credo che la nostra organizzazione Possa dare un contributo importante Poi ce n'è un altro Che è quello del rapporto con il consumatore Perché da un lato Le imprese non sanno O sono in difficoltà Diciamo così Ad affrontare degli aumenti di costi Spropositati, inimmaginabili Mai accaduti nel corso della storia Dall'altro il potere d'acquisto del consumatore Non è parimenti aumentato E quindi ci troviamo in una fisarmonica Che è molto molto schiacciata Quindi anche questi saranno temi Che nei prossimi anni affioreranno Con grande peso Devo dire A soffrire in modo particolare Il caro energia Che ha visto aumenti del petrolio Fino al 50% E addirittura del 700% del gas Si è il comparto della pesca Dove il costo del carburante Pesa fino all'80% Sulle spese totali La situazione è semplicemente drammatica Ci sono pescatori Tanti armatori Tanti pescatori Che stanno di fatto Mettendo a riposo le barche Ovvero riconsegnando Come si dice in gergo Riconsegnando alle marinerie Le carte Che significa quindi Fermare la propria attività Tutto questo è semplicemente drammatico Ed è la risposta Ahimè Ad una situazione Di insostenibilità Economica Dell'attività Dell'attività di pesca Il mondo della cooperazione Agroalimentare E non solo Ha di fronte Sfide importantissime Dovute in parte Ai cambiamenti Di scenari Alla nuova PAC Il PNRR Dall'altra Quelli che sono invece Gli scenari geopolitici Come può essere affiancato Come la regione affianca Il comparto Beh intanto Aggiungiamo che Negli scenari Geopolitici Incide certamente La parte energetica Da cui si genera un po' tutto Quello che è Diciamo Il cambiamento di scenario Per i costi Che genera E per l'incertezza Sui ricavi futuri La cooperazione Per sua natura È resiliente Più di altri settori Perché Attraverso una migliore organizzazione Si possono implementare Quelle forme organizzative Che possono permettere Di andare meglio sul mercato Che possono permettere Di relazionarsi meglio Col mercato Che possono permettere Di guardare A mercati Non solo europei O non solo di casa In futuro Noi abbiamo nel cassetto Alcuni provvedimenti Che possono andare A dare risposte A quelli che sono I cambiamenti climatici E quelli che sono Non tanto La parte energetica Che è forse Un po' più grande Di un nostro PSR Ma Quello che sono Gli adattamenti Alle forme Diciamo Di commercializzazione Quindi di tenuta Dei mercati In uno scenario Che comunque È cambiato per tutti Quindi non è Che abbiamo Uno svantaggio Solo locale Il tema Andrà affrontato A livello nazionale E anche a livello europeo Come di fatti Si sta facendo Perché L'Unione Europea Sta producendo Una serie di regolamenti Che per la prima volta Per esempio Sono andati a toccare La riserva di crisi Cosa che non era mai Stata fatta in passato Proprio per l'eccezionalità Del momento E da qui Da Bologna Dall'assemblea Di Conf Cooperative Fedagri Pesca e tutto Restituisco la linea E adesso Cambiamo scenario Andiamo a Foggia Dove in occasione Delle manifestazioni Dimostrativa Di Demo Green Presso i Vivai Ricciotti Federica Tugnoli Segretario di Coma Garden In un incontro stampa Ha fornito Gli ultimi dati Del mercato Delle macchine Per il giardinaggio E la cura del verde Un comparto Che tiene Nonostante una leggera Flessione E si conferma Su buoni livelli Anche nei primi mesi Dell'anno in corso Nel 2021 Quello che abbiamo Riscontrato È stato un forte incremento Delle vendite di macchine A giardinaggio Complice appunto Il lockdown La disponibilità Maggiore di tempo E anche Una disponibilità Economica Forse maggiore Che ha portato Proprio i consumatori A dedicarsi A questi hobby Che gli consentivano Di stare all'aria aperta Il 2022 È un anno Differente Nel senso Noi registriamo Nel primo trimestre Un calo Del 7,4% Nelle vendite totali Questo calo Va letto Come Un calo Fisiologico Perché Se andiamo A raffrontare Con lo stesso trimestre Dell'anno precedente Che era appunto Un periodo Di boom Il primo trimestre Del 2021 Aveva segnalato Un Più 39% E quindi È chiaro Che questo Menosette È un ritorno Insomma Alla normalità Sul mercato Quindi Non lo leggiamo Come un dato Negativo La domanda Di macchine C'è Con varie difficoltà Entrando Nel dettaglio Delle diverse Tipologie Di macchine Attrezzature Si notano Flessioni lievi Per decespugliatori Motoseghe E rasaerba I soffiatori Aspiratori Segnano Un calo Dell'11% Le tagliasiepi Del 17 I trattorini Del 13 Fra le tipologie Di mezzi Che evidenziano Flessioni Più consistenti Atomizzatori Erroratori Meno 29,3 E spazzaneve Meno 22,3 Mentre Crescono In doppia cifra Forbici Da prato Più 27,8 Potatrici Ad asta Più 13,2 E zero Tarn Professionali Più 8,5 Per cento Decisamente positivo Infine L'andamento Di tutte le tipologie Di mezzi Con propulsioni A batteria Che confermano Così Il trend Degli anni Precedenti Novità E tendenze Le ritroveremo Comunque A Eima A Bologna Dal 9 Al 13 Novembre Prossimo Con un'edizione Anticipato Simona Rapastella Direttore generale Di Federunacoma Che si presenta Molto ricca 1200 Sono le imprese Costruttrici Che al momento Hanno confermato La partecipazione 14 I settori Di specializzazione E 5 I saloni Tematici Con novità Importanti Proprio Per il garden Nei saloni Tematici C'è Eima Garden Il salone Dedicato Al giardinaggio A tutte le macchine Per usi Professionali E obbistici E al grande Mondo Del verde Che ha Un'attenzione Rinnovata Quest'anno In questa nuova edizione Infatti Insieme Alla tradizionale Esposizione Avremo anche Un'area esterna Garden Emotion Che dimostrerà Dal vivo Le macchine In movimento Grande attenzione Anche perché Il mondo Del verde È sempre più Attenzionato E fa parte Di una Specializzazione Dedicata Anche All'attenzione Per le aree Mediterranee Per i mezzi E i sistemi Meccanici Per le risorse Idriche E per tutto Il grande mondo Del verde Di cui Oggi Ne mostriamo Un esempio Di un'area Di un'area Grazie a tutti.